Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di orecchiette o cavazietti 500 grammi di pomodori maturi per sugo 2 spicchi d'aglio 4 cucchiai d'olio Sale Pepe 500 grammi di rucola Ricotta salata dura da grattugiare o pecorino Preparazione Si spellano i pomodori e si riducono a pezzetti Si fa rosolare l'aglio nell'olio Poi si aggiungono i pomodori Si sala e si pepa Fare addensare il tutto per un quarto d'ora A fuoco moderato La rucola va lavata e lessata per 10 minuti in acqua bullente e salata Nella stessa acqua con la rucola si aggiunge la pasta Quando la pasta è cotta Si scola tutto insieme e si trasferisce in una zuppiera Si aggiunge il sugo precedentemente descritto e si completa il tutto Mettere il pecorino grattugiato O la ricotta dura mescolando di nuovo Il piatto è pronto Buon appetito!